Ciao, sono Fabrizio e lui è Matteo. Ciao ragazzi. Questa sera parliamo di sport e parleremo in particolare di come fare a tirare un calcio di rigore perfetto. Punto numero uno. È fondamentale la posizione. Faremo tre passi indietro e uno laterale come Cristiano Ronaldo. Uno, due, tre. Adesso tirerò il mio rigore più congeniale. Punta. Possibilità numero due. Il rigore di collo per tirare di potenza. Possibilità numero tre. Per spiazzare il portiere, rigore di precisione o piatto. Partiamo con i rigori spettacolari. Rigore numero quattro. Il rigore alla Totti. Come vedete è cambiato il tasso tecnico, cambia anche il calciatore. Rigore numero cinque. Vista l'efficacia del precedente, ora andiamo con un rigore di Ramona. Siamo arrivati all'ultimo rigore della serie, che è il più spettacolare di tutti. Il rigore è a due piedi. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Abbiamo visto sei modi diversi per segnare o sbagliare un calcio di rigore. Allora, abbiamo detto, come prima cosa è fondamentale la rincorsa alla Cristiano Ronaldo. Poi, abbiamo visto i sei tipi di calci di rigore. Possiamo tirare di punta, di collo, di precisione, alla Totti, di Rabona o quello a due piedi. Ok, speriamo che questi consigli vi possano essere veramente utili per la vostra futura carriera calcistica. Da Merate è tutto. Fabrizio, Matteo, Be Better a voi. Ok, speriamo. Grazie a tutti